qua disti ed eccoci parco lambro test verità long run segway nine boot mini prodotto spettacolare per la conquista del mercato ovviamente la nostra tester d'eccellenza è la janji che saluta fate conto che la janji si è sempre rifiutata di andare sul monociclo che è quello che sto usando io guardalo qua nine boot segway one e la janji si sta andando con segue mini che è il prodotto con la quale si vuole conquistare il mercato ieri sera alle 17 l'abbiamo scartato oggi alle 10 va già come una bestia janji rallenta perché mi stai facendo paura ho paura veramente sono un rompicoglioni ma è la donna che amo e dico a destra si a destra sul marciapè va beh fa niente ecco le donne non fanno mai un cazzo di quello che gli dici comunque vuole va che c'è la strada è ostia ostia mi ammazzano la janji comunque ragazzi il prodotto è spettacolare oggi ci siamo andati anche a fare la spesa al supermercato vi saluto perché vado a salvare gli automobilisti dalla janji amore girati che saluti e girati con il girati completa e topolina vado anima come va ragazzi da quaddisti e monociclisti segue il cazzo tutta la vita un software da panico vi dico ragazzi dal vostro fiero non ce ne è cioè software segui e da panico ciao